Sara, di cosa parlerai? Buongiorno a tutti e a tutte, mi chiamo Sara e vi parlerò di UX e di come utilizzarla per ottimizzare il vostro servizio. Sara? L'applauso è poco convinto, ma che la sigla? Lo so, perché la UX è una grande sconosciuta. Se ne sente tanto parlare, però sfido chiunque a riuscire a definirla in poche parole. Io ho fatto un master al riguardo e mia mamma deve ancora capire cosa sto facendo. Tutte le volte mi fa, ma le mie amiche che gli dico che sei un artista? No, non è proprio questo quello che faccio. Però la sfida di oggi è proprio quella, riuscire a spiegarvi cos'è in poche parole e farvi entrare un po' in quello che è il punto di vista progettuale di un UXer. Quindi, che cos'è la UX? Vado da definizione, data da me. La UX è una disciplina del design che studia l'esperienza d'uso dell'utente, cioè la qualità, e sottolineo qualità, dell'interazione con un prodotto o un servizio. Quindi, lo UXer non si limita a studiare la funzionalità che è un servizio o un prodotto stesso, quindi la capacità di portarti al raggiungimento dell'obiettivo da A a B, ma studia anche tutta quella che è l'emozionalità che la persona prova durante l'utilizzo di questo servizio o prodotto. Quindi si parlerà di emotività, la desiderabilità che suscita un determinato servizio nella persona, il coinvolgimento e moltissimi altri fattori. Perché questo c'è utile? Perché fare una valutazione che non è solo prettamente funzionale, anche se la funzionalità è chiave? Perché non è il servizio in sé, in quanto tale, a definire l'efficacia o il successo, appunto, del servizio stesso, ma è il modo in cui le persone lo vivono, il ricordo che avranno di questo servizio, come ne parleranno. E quindi è fondamentale allargare il proprio punto di vista, mettersi nei piedi di quello che è l'utente e cercare di capire come vive quella determinata esperienza. Perché è utile a noi freelance fare questo cambio di prospettiva? Come ci insegnava prima Tommaso, ascoltiamo il nostro cliente. Noi fornendo un servizio usiamo, creiamo dei prodotti e quindi creiamo un'esperienza al nostro utente, delle interazioni e la UX ci può essere utile per studiare questo genere di interazione, capirle e quindi non focalizzarsi più su quello che è il servizio stesso, ma aprire proprio lo sguardo in maniera più ampia. Comprendere l'esperienza. Il primo punto è quello di riuscire a visualizzarla, la UX ci insegna proprio questo, a creare quello che è una visualizzazione dell'esperienza in maniera oggettiva, per dire vado a lavorare su questo punto o su quest'altro, anche per poterla condividere, non mantenerla solo a un livello personale. Qui è come io mi immaginavo l'esperienza utente prima, e poi vi farò vedere dopo aver fatto un master, quindi la prima, l'esperienza che secondo me era un'esperienza non funzionale, un'esperienza che ritornava su se stessa, portava l'utente comunque a stressarsi, ma insomma aveva un po' nella mia testa questa visualizzazione. La seconda invece, questa linea retta, era come mi immaginavo un'esperienza estremamente funzionale, ben progettata, quindi lineare senza intoppi. Com'è che in realtà si visualizza un'esperienza? In questo modo, perché l'esperienza è di per sé un flusso emotivo, fatto di picchi, momenti piacevoli, e anche di picchi verso il basso, che sono i momenti di difficoltà che trova il cliente o l'utente, a seconda di come ne vogliamo parlare. Entrambi sono importantissimi, perché sono appunto gli estremi che noi andremo a ricordarci. Non è la parte centrale, neutrale dell'esperienza, quella che ci rimane in mente, ma sono appunto questi due estremi. Entrando ancora più nel dettaglio, possiamo dire che l'esperienza è composta da tre parti. Intanto dobbiamo definirla, dobbiamo decidere qual è il punto di inizio e di fine di quello che vogliamo andare ad indagare. Ma se l'esperienza, diciamo, è il vissuto centrale, il punto di inizio e la fine sono quelli, secondo me, più interessanti. Infatti l'esperienza non inizia dal momento in cui la vivo, quindi il mio cliente non ha un'esperienza con me nel momento in cui si trova a confrontarsi per la prima volta, ma parte dall'aspettativa. Come si crea questa aspettativa? Attraverso la nostra presenza sui social, per esempio, attraverso quello che gli hanno detto, attraverso il nostro vestiario. Sono tantissimi i fattori che possono creare l'aspettativa. E cosa fa l'aspettativa? Tara una linea che determina il successo dell'esperienza stessa. Quindi non c'è un criterio universale per calcolare il successo di un'esperienza, ma è ogni volta relativo all'aspettativa che il nostro cliente, nello specifico, ha nei nostri confronti. Poi, vabbè, il vissuto con i suoi alti e i suoi bassi e infine il ricordo, cioè quello che io mi ricordo al momento conclusivo, che è anche quello più importante, diciamo, quello che rimane più impresso. E li vediamo. Se è sopra il livello dell'aspettativa, sarà un'esperienza valutata positivamente. Se il mio ricordo è inferiore all'aspettativa, sarà un'esperienza che in qualche modo non è stata piacevole. Ma facciamo un esempio pratico, per riuscire a calare veramente questa visualizzazione nella realtà. Vi parlerò di viola. Viola è una guida turistica, è un progetto che ho seguito insieme a lei. Lei organizza tour per famiglie con bambini a Firenze e ha questa missione, diciamo, quella di permettere a delle famiglie straniere con bambini di viversi un'esperienza piacevole, pur facendo un tour culturale. Quindi il suo obiettivo è quello che sia i genitori che i figli escano arricchiti e formati dall'esperienza con lei e che sia soprattutto un qualcosa di piacevole. Cosa abbiamo fatto? Viola mi ha chiesto di rivedere il suo branding, il modo di porsi, però prima di dare una soluzione e qualche consiglio, ho deciso di partire dalla ricerca. Cioè io volevo vedere veramente come i suoi clienti vivevano l'esperienza che lei offriva per capire dove andare a lavorare e cosa fare che fosse veramente utile. Quindi mi sono letta i feedback, abbiamo fatto qualche intervista, io avevo fatto un test, in precedenza già avevo fatto un tour con lei, quindi sapevo esattamente il modo in cui lei aveva organizzato il suo tour ed era pensato oggettivamente bene perché prevedeva delle pause adatte, adatte anche ai bambini, delle soste, dei consigli, un modo di parlare adeguato. E poi mi sono fatta raccontare tantissime esperienze, proprio come iniziavano dall'inizio alla fine, nel momento in cui incontrava i suoi clienti fino al momento conclusivo, il modo da poter creare una media di quelle che erano le esperienze, le problematiche, i gradimenti che c'erano. A questo punto abbiamo potuto cambiare insieme, perché ho voluto condividere con lei questa ricerca, il punto di vista. Quindi ho capito qual era il contesto in cui lei operava, contesto di concorrenza anche, ma contesto anche fisico, dove si trova il suo cliente mentre arriva in una Firenze, che è caotica, con le strade dove il passeggino non va, perché è piena di ciottoli, quindi proprio calarsi nella realtà che loro vivevano. Abbiamo definito gli attori, da una parte i turisti, dall'altra parte lei, e le loro necessità. Cosa si aspetta Viola dal suo tour, l'abbiamo detto prima, è un po' quella che è la sua missione, ma cosa si aspettavano i suoi clienti? Una volta capito e definito tutto questo, abbiamo disegnato il suo flusso dell'esperienza utente. Non vi entro nei dettagli dei picchi e decale, è giusto un'immagine rappresentativa, però quello che emerge è che l'aspettativa che i clienti avevano era eccessivamente più alta rispetto al vissuto che lei le poteva proporre. Io avevo fatto un tour con lei, avevo capito che era un tour valido, ma come mai poi nel grafico avevamo questo grande dislivello? Quindi il fatto che nella maggior parte dei suoi clienti l'esperienza non fosse considerata positiva. Allora ci siamo chiesti il perché. Il servizio c'è, il servizio è buono, ma cos'è che non funziona? E siamo riusciti a capire il motivo solo attraverso quella che è stata la ricerca iniziale. Perché? Perché i suoi clienti, nella maggior parte dei casi, arrivavano da delle agenzie di viaggio che vendevano un viaggio idilliaco, si basavano su immagini standard di una Firenze dove non c'era nessuno, senza file, senza attese. Non entravano, non si immaginavano anche le difficoltà tecniche di quello che voleva dire viaggiare nei musei con dei bambini. Quindi non portavano l'acqua, non portavano la merenda, i bambini iniziavano a piangere, si irritavano. C'era tutta una serie di difficoltà a cui andavano incontro, tecniche, perché? Perché non erano preparati. E l'immagine che avevano del viaggio era troppo veramente idilliaca. E questa aveva delle ripercussioni sul vissuto che loro vivevano veramente. E poi abbiamo lavorato sul ricordo. Il momento conclusivo del tour di Viola era un momento, diciamo, negativo, perché non andava a intercettare quella che era la richiesta vera dei suoi clienti. Essendo persone che non si erano organizzate di loro spontanea volontà il viaggio, nel momento di lasciare Viola vivevano un piccolo trauma, quello dell'abbandono. E cosa succedeva in quel momento? Loro provavano a tirare fuori il telefono, ma dammi qualche altro consiglio, e poi dove vado, e cosa faccio? Ma lei voleva andare a casa, i bambini erano stanchi, in più che in una lingua che non era la loro, provavano a prendere appunti. Comunque era un momento, quello conclusivo, che non era sfruttato in maniera adeguata, perché non rispecchiava quella che era l'esigenza dei suoi clienti. Cosa abbiamo fatto, quindi? Non abbiamo lavorato su quello che era il suo servizio, ma abbiamo lavorato su due estremi, e sulla percezione che aveva il servizio stesso, quindi sull'aspettativa e sul ricordo. Attraverso del materiale che abbiamo fornito ai turisti, prima di iniziare il tour, abbiamo abbassato l'aspettativa, che sembra una cosa strana, però in quel caso il problema risiedeva proprio lì, quindi abbiamo reso più reale quella che poteva essere l'esperienza con lei, permettendo a queste persone di calarsi nella realtà fiorentina, insomma, dei musei, e poi abbiamo dato loro una checklist, una soluzione divertente che gli spiegasse gli essenziali da portare con sé per godersi al meglio il tour. Questo piccolo accorgimento ha portato prima un livello di percezione dell'esperienza stessa migliore, perché a quel punto era reale, veramente si potevano far sorprendere dalle bellezze di Firenze, ma soprattutto a cascata ha risolto tantissime problematiche che i clienti incontravano, perché veramente la banale bottiglia dell'acqua causava l'impossibilità di finire il tour, perché dovevamo uscire dal museo e via dicendo. E poi abbiamo lavorato sul ricordo, per risolvere quel momento conclusivo che è il più incisivo all'interno dell'esperienza e risolvere questo trauma dell'abbandono. Quindi, a sorpresa, Viola consegnava un PDF con tutti i consigli che le famiglie potevano fare nel momento in cui la lasciavano, quindi ristoranti, gelaterie, parchi e suggerimenti un po' su larga scala. in questo modo vedete che si è completamente ribaltata l'esperienza senza essere andati a lavorare sull'esperienza stessa, nello specifico. Poi noi abbiamo voluto un po' strafare, allora abbiamo anche fatto questo workbook che serviva ai bambini e introducendo un po' quell'elemento memorabile che rimaneva anche come ricordo dell'esperienza stessa per permettere a lei di approfondire alcuni temi con gli adulti, mentre i bambini potevano confrontarsi con quello che lei aveva spiegato in questo piccolo libriccino. Perché vi ho parlato di questo caso studio? Perché più di altri che ho seguito il livello proprio dell'esperienza è totale, quindi è fondamentale capire come le persone si sentivano per poter cambiare la percezione. Lei non ha cambiato il suo servizio, il servizio è rimasto lo stesso, ma è cambiata radicalmente la percezione che le persone avevano. E quindi i miei consigli, cambiate il punto di vista, fate di tutto per cercare di capire come i vostri clienti vi vedono, quali sono i pregiudizi che i vostri clienti hanno sulla vostra professione, quello che si immaginano, in modo da poter dare una risposta in anticipo e riuscire subito a risolvere tutta una serie di problematiche che si possono causare in futuro. Guardate all'esperienza totale, quindi dall'inizio alla fine non chiudete gli occhi su una specifica parte che sicuramente è importante però va valutata all'interno di un'esperienza totale prima di tutto e poi lavorate sulla coerenza un'esperienza coerente che porta un massaggio univoco dall'inizio alla fine è un'esperienza che funziona e rimane nella memoria. Grazie 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 Grazie